Come andiamo? Siamo carichi? Allora, ieri giornata di sorprese, ma non per quanto riguarda Manchester United e Atlético Madrid perché due grandi squadre, una delle due doveva passare ci può stare che l'Atletico Madrid che ha fatto una partita accorta, intelligente come sa giocare lei? Di ripartenza, difeso bene, Manchester United fa grande fatica la grande sorpresa per me, che non me l'aspettavo, è l'eliminazione dell'Ajax perché all'andata meritava facendo una grande partita con il Benfica invece ieri è stato incartato, bravo e complimenti al Benfica però questa è una grande sorpresa che io non mi aspettavo Follower, adesso aspettiamo stasera l'altra giornata Cari cari